Il Presidente Patuanelli dà le ultime parole di Di Maio. Di Maio che uscendo dalle consultazioni con il Presidente del Consiglio, chiaramente rappresenta anche lei, è sembrato molto duro. Ha utilizzato il condizionale per dire che questo governo potrebbe nascere se, 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 dettando tutte le condizioni e altrimenti si torna al voto. C'è qualcosa che si sta incagliando? Dove sta incagliando semmai la trattativa con il Partito Democratico? Non credo che si possa parlare di trattativa incagliata o di atteggiamento troppo duro del Ministro Di Maio. È evidente che il Movimento 5 Stelle ha messo sul tavolo alcuni temi che per noi sono identitari, fondamentali. Ma in realtà, le diceva che parlerete dopo dei dati appena detti. In realtà noi parliamo proprio di questi dati, di come il mondo del lavoro deve essere supportato, di come deve essere supportato chi vuole fare una famiglia in questo Paese. Perché se nel 2050 avremmo più pensionati che lavoratori è perché c'è un calo delle nascite, perché le famiglie non hanno il sufficiente supporto per fare figli e non hanno un lavoro stabile che gli consenta di fare un mutuo e quindi di programmare una vita in famiglia. Eh sì, Di Maio ha parlato del taglio del costo del lavoro, che aiuta le famiglie. Sono temi che l'hanno messo sul tavolo, ma io non ho visto in nessuno dei temi che noi abbiamo citato degli ostacoli insormontabili a trovare una quadra con... Il Partito Democratico però non l'ha presa bene, su cui l'ho filtrata una certa irritazione. Poco fa il vice segretario del PD Orlando ha detto se 5 Stelle ci hanno ripensato lo dicano con chiarezza. Cioè avete ripensato sull'idea di fare un governo col PD? Noi non abbiamo né pensato né ripensato. Beh, al Quirinale avete dato la vostra disponibilità. Assolutamente, ma come ben sanno gli esponenti del Partito Democratico, al Quirinale abbiamo dato la disponibilità, abbiamo anche dato una parte e ampia parte, tra l'altro, dei temi citati oggi di programma condiviso con il Partito Democratico. Quindi ci sono molti temi su cui si può iniziare un percorso di lavoro. Ci sono altri temi su cui bisogna chiarirsi prima, perché è meglio chiarirsi adesso e eventualmente prendere atto che non c'è condivisione. Poi c'è, come posso dire, il Presidente del Consiglio incaricato ha anche questo incarico, come è noto ha accettato l'incarico con riserva, come è normale che sia così. Se c'è una riserva è perché questo percorso può andare in un modo o andare nell'altro, ma non è una cosa irrituale che succeda così. Su quale tema vede l'ostacolo più alto da superare nella trattativa? Beh, io credo che ci siano alcuni temi ambientali che vadano affrontati nel modo giusto. Però anche Zingaretti ha parlato molto di ambienti. Sì, però come si usa a dire il diavolo poi si nasconde nei dettagli. Allora, è facile, come dicevamo stamattina, dopo un po' di minuti fa, dopo l'incontro con il Presidente Conte, mettere un like a un post di Greta Thunberg o parlare di cambiamenti climatici, però perché si possa intervenire veramente affinché i cambiamenti climatici abbiano un'inversione di marcia da qui ai prossimi 40 anni, affinché ci sia una politica ambientale seria, bisogna fare i provvedimenti giusti. Proprio sulla politica ambientale lei crede che non troverete la quadra? Su alcuni dei dettagli delle politiche ambientali, sugli inceneritori è un tema, voglio dire, che per noi è fondamentale. Colleghi un po' più anziani di me, magari un po' più cinici, magari con l'occhio più lungo, subito mi hanno detto, guarda che sta parlando di temi, ma in realtà l'obiettivo sono, non voglio dire le poltrone, ma insomma i ministeri di incarichi di governo. Assolutamente, guardi, noi nel colloquio con il Presidente Conte non abbiamo toccato neanche per mezzo secondo il tema delle poltrone o dei ministeri o degli incarichi. Però Conte, ha detto Di Maio, è super parte, se voi non lo considerate un esponente di 5 Stelle come fa invece il PD? Il Presidente Conte è stato elemento di garanzia per 14 mesi e continua a essere per noi elemento di garanzia e, come posso dire, è un complimento, è un grandissimo credito che noi diamo al Presidente Conte. Quindi servirebbe un Vice Premier 5 Stelle e uno del PD nella vostra... Ma credo che anche per rafforzare la compagine di governo da un punto di vista politico, sul piano politico, non vedo come si possa in qualche modo non consentire alla compagine di governo che ha la maggioranza relativa ampiamente superiore al secondo gruppo politico e al terzo di non avere come Vice Presidente il proprio capo politico. Perché dal PD dicono, Conte, l'espressione dei 5 Stelle, hanno già il Presidente del Consiglio, se c'è un Vice serve al secondo partito che è il PD. Sì, ma abbiamo anche il doppio della rappresentanza parlamentare del Partito Democratico. Questo è un dato che non può sfuggire. Quindi ne prendete i due terzi. Poi io immagino anche che la seconda parte... No, non è Cencelli, è il prendere atto di una situazione aggettiva. Immagino che la seconda parte della legislatura che si aprirà col Conte Bis sia una parte ampiamente parlamentare. Ma anche su Conte Bis diciamo... Ma però anche su questo, chiamiamolo come vogliamo. Il Presidente del Consiglio, se otterrà la fiducia delle Camere, sarà Giuseppe Conte, che è lo stesso Presidente del Consiglio che c'era prima. Quindi chiamiamolo Conte 2, chiamiamolo come vogliamo, ma non credo che sia questo che interessa agli italiani. Agli italiani interessa sapere se riusciamo a decarbonizzare le centrali entro il 2025. Questo interessa agli italiani, perché ci diamo in casa quelle centrali. Agli italiani interessa sapere se l'incenerimento dei rifiuti è ancora il nostro modo di approcciare alla gestione e alla soluzione finale del rifiuto o se invece riusciamo a fare un progetto di end of waste, che è, come sapete, il modo in cui si trattano i rifiuti e si riciclano e si usano come materia prima secondaria, se riusciamo a fare in modo che non ci sia più un rifiuto da smaltire né in discarica né nell'incenimento. E' questo che interessa agli italiani, non che si chiamano Conte 2 o Conte Bis. Tutto questo deve passare da Rousseau. Avete deciso quando verrà posto il quesito e come? Non ancora, vedremo i tempi del Presidente Conte dei prossimi giorni sui tavoli che si aprono dalle prossime ore per tutto il weekend per la formazione di un programma condiviso e dopodiché quando ci saranno tutti gli elementi... Comunque è sicuro che ci sarà un voto su Rousseau. Assolutamente sì. Mi fate vedere per favore il post di Paragone, un post su Facebook in cui ha parlato appunto di Rousseau, ma dicendo su Rousseau votereste l'accordo con il Partito Democratico? No, lo alzate per favore perché non riesco a leggerlo per bene. Adesso vediamo se... Qualche secondo e poi vi riesco... Ecco qua. Se potessi votare sulla piattaforma Rousseau, votaresti sì o no al governo con il PD? Qualcuno si chiede perché non avete deciso prima di votare su Rousseau e votare quindi sull'alleanza con il PD? Voglio dire, per poter esprimere un giudizio su qualcosa che sta nascendo bisogna capire i contorni entro cui nasce. Ripeto, per me è fondamentale sapere se il governo tratterà certi temi o l'acqua pubblica è un tema su cui andremo avanti? Io mi auguro di sì. Però non sarà faccio adesso far digerire ai vostri elettori un'alleanza con quello che voi avete chiamato sino a pochi giorni fa il Partito di Bibbiano, no? Cioè questo che ci sono stati degli scontri... Noi crediamo che non sia facile governare questo paese. Anche violenti tra i due non lo scordiamo. Noi crediamo che non sia facile governare questo paese. Purtroppo noi non abbiamo avuto una maggioranza assoluta che ci contestisse di governare da soli dal marzo del 2018. Questo è un dato di fatto. Abbiamo, come si dice, vinto le elezioni, anzi siamo arrivati i primi ma non abbiamo avuto la maggioranza assoluta. Quindi da soli non possiamo governare. Invece di congelare questo patrimonio di consenso elettorale 11 milioni e mezzo di persone ci hanno scelto abbiamo fatto quello che abbiamo sempre detto avremmo fatto dopo le elezioni senza avere la maggioranza assoluta. Se si votasse oggi tra l'altro e nel frattempo chiedo alla regia di preparare la faccio proseguire subito, eh? No, dico solo alla regia di farci preparare per favore il cartello sul sondaggio Quorum New Trend per Sky TG24 a proposito dell'intenzione di voto se si votasse oggi. Abbiamo detto a marzo 2018 quello che stiamo dicendo adesso un'esperienza di governo è finita, non certo per responsabilità del Movimento 5 Stelle. Questo deve essere chiaro. C'è qualcuno che organizza manifestazioni di piazza contro chi ha fatto cadere il governo e le sta facendo contro se stesso perché questo sarà... A proposito di Salvini... Volevo completare solo un attimo la questione che credo sia fondamentale. Noi abbiamo fatto una proposta a marzo anche al Partito Democratico. Questo è il gradimento però. Questi sono i nostri temi per il Paese. Chi vuole farlo con noi? E abbiamo trovato una forza politica, la Lega, che si è dimostrata disponibile e abbiamo governato assieme a 14 mesi. Oggi siamo nelle stesse condizioni. Stiamo dicendo, ci sono dei temi e delle risposte che dobbiamo dare ai cittadini per migliorare la loro qualità della vita. A noi non ci interessa niente la nostra poltrona. Io ne avevo una più comoda quando facevo l'ingegnere. Peraltro ci parla di lei come possibile ministro... Anche questo non mi interessa. Anche questo a proposito di proposte, appunto, voi avete fatto le vostre. Poco prima Zingaretti, uscendo sempre dalla stessa sala dei busti a Montecitorio, ne ha fatte alcune del PD. Taglio delle tasse ai ceti medio-bassi, investimenti sulla scuola, in particolare la proposta di rendere praticamente gratuita la scuola dall'asilo all'università per i figli delle famiglie più in difficoltà. Decreti sicurezza con l'accoglimento almeno dei rilievi che sono arrivati dal Quirinale. Per esempio su queste tre proposte vi trovate? Tutte queste tre proposte sono contenute nel documento condiviso che abbiamo messo nelle mani anche del Presidente della Repubblica proprio perché volevamo dimostrare che nei giorni prima delle consultazioni era stato fatto un lavoro assieme al Partito Democratico. Quindi sono temi su cui non vedo problemi, cioè sono temi che poi riusciamo ad affrontare assieme. Noi oggi abbiamo aggiunto alcune, la questione delle concessioni autostradali è un tema da affrontare. Però Del Rio su quello mi sembra ieri aveva aperto la discussione. Certo, da una parte c'è la revisione del sistema delle concessioni e dall'altra parte c'è il capire che è necessario che chi ha manutenuto così male le nostre infrastrutture tanto da non accorgersi che un ponte stava crollando e quel crollo ha portato alla perdita di 43 vite umane e io credo che quel gruppo non debba più avere in concessione le autostrade. Quindi revoca e entro... Da un lato c'è la revisione e dall'altra parte ci sono gli elementi per poter procedere con una revoca. I tempi uguali, la questione non sono i tempi, la questione è capire che il sistema delle concessioni, e non parlo soltanto della questione dell'autostrade, ha visto il nostro Paese in qualche modo consegnare dei beni pubblici ai privati, i privati hanno avuto grandi reddittività da quella gestione di quei beni pubblici e non li hanno però manutenuti come il buon padre di famiglia. Allora forse quel sistema di concessione va rivisto e vale in generale per tanti beni, anche per i servizi. Senza la revoca di autostrade a Gruppo Atlantica non può partire dal governo, non si può fare un accordo? Guardi, questo lo vedremo nelle prossime ore, però noi dobbiamo mettere sul tavolo, non soltanto le cose su cui siamo certamente d'accordo. Oggi abbiamo detto che per noi è inaccettabile qualsiasi forma di patrimoniale, non abbiamo mai sentito parlare di patrimoniale in nessuna delle altre forze politiche, quindi sappiamo che quello è un tema su cui non ci saranno problemi, sugli aiuti alle famiglie che fanno figli, la scuola, non ci sono problemi sulla parte di gratuità e gli investimenti sul mondo della scuola. Decreti sicurezza? I decreti sicurezza, ma l'abbiamo detto in conferenza stampa dieci minuti fa, secondo noi il tema delle sicurezza e dell'immigrazione, più che della sicurezza, li abbiamo chiamati decreti sicurezza, ma è della parte immigrazione che ci stiamo occupando. Non va cambiata la razio. Non va cambiata la razio, vanno certamente accolte le autorevoli osservazioni del Presidente della Repubblica, non c'è nessun dubbio su questo piano. Ma abbiamo detto, e credo che anche il Partito Democratico abbia questa stessa linea, che il tema dell'immigrazione va gestito a livello europeo ed è a livello europeo che il Movimento 5 Stelle vuole avere le garanzie di ridistribuzione di chi arriva sul territorio europeo, perché arriva in Italia ma arriva in territorio europeo. Ma citavo Salvini perché ieri sera il leader della Lega ha avanzato qualche dubbio sulla possibilità che, se nascerà a questo punto questo governo, avrà davvero i numeri in Senato. Lei è il capogruppo in Senato dei 5 Stelle, è preoccupato per la possibilità che ci siano i numeri per la fiducia? È noto che il gruppo parlamentare al Senato del Movimento 5 Stelle e PD assieme non hanno la maggioranza, ma c'è il coinvolgimento del gruppo misto, del gruppo di Leu, c'è una parte del gruppo di autonomia, quindi i numeri saranno, nel caso abbiamo segnali che saranno più ampi della maggioranza di prima. Poi, ripeto, abbiamo sempre avuto i numeri sia prima e avremo anche con una maggioranza che parte con numeri più ampi. Mi fate vedere per favore la grafica. La prima però che avevamo visto, c'è quella sul gradimento di Capo dello Stato, Presidente del Consiglio e i vari leader politici. Se l'ha riuscita a recuperare c'è il dato su Di Maio che volevo commentare insieme al Presidente Patonelli, Presidente dei senatori del Movimento 5 Stelle. In ogni caso, eccolo qua, Luigi Di Maio al 25,7%, molto abbastanza, poco per niente, 74,3%, vabbè, insomma, in cima alla fiducia ci sono in questo momento Sergio Mattarella e Giuseppe Conte che ha il 53,4%. Di Maio, in questa fase qua, forse non gli converrebbe fare, scusamente concentrarsi sul suo ruolo di capo politico? Io penso che Luigi Di Maio ha dimostrato di avere la capacità di da un lato essere il capo politico di quello che è alle ultime elezioni politiche, il risultato, il primo partito in Italia, il primo movimento politico in Italia e dall'altro ha fatto il Ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro dando una linea di indirizzo a tutta l'azione di governo sui temi dello sviluppo economico e del lavoro. Se penso al decreto crescita, penso al decreto dignità, penso al reddito di cittadinanza e a quota 100, sono tutti i decreti che in qualche senso... Quindi dovrebbe rimanere lì, secondo lei, a guidare quei... Ma questi saranno, poi, sarà la sua scelta, quello che vorrà fare o che non vorrà fare più, su cui non mi permetto di entrare. Però io posso dire che è evidente che soprattutto sui temi del lavoro è stata fatta una politica molto forte e molto incisiva da parte del governo che ha chiuso la sua esperienza ad agosto. Mi dice perché ieri ha sentito l'esigenza di usare parole molto forti in conferenza stampa chi tocca il nostro capo politico tocca ciascuno di noi, perché ha sentito l'esigenza di ribadirlo come ho detto anche ieri. Con chi ce l'aveva? No, non ce l'avevo con nessuno in particolare e con tutti quelli che ritengono che toccare il nostro capo politico sia un modo per dividerci. In realtà... Anche all'interno del Movimento 5 Stelle però. Esatto, il Movimento 5 Stelle ha spesso parlato più voci e quando c'è stato un momento di difficoltà, parlare più voci poteva significare o far percepire degli elementi di tensione tra i vari esponenti di punta del Movimento 5 Stelle. La crisi che è stata aperta immotivatamente, perché ancora non si è capito qual era la motivazione, da Salvini, ha ricompattato fortemente il Movimento 5 Stelle. Oggi chi tocca il nostro capo politico tocca ogni singolo esponente del Movimento 5 Stelle e su questo c'è una compattezza, è un modo di pensare totalmente unito che dimostra Poi Di Battista va per conto suo, Grillo dice altre cose. Di Battista non va per conto suo, non mi sembra proprio, anzi Di Battista è uno di quelli che in un periodo in cui abbiamo iniziato questa esperienza di governo da lontano, vedeva delle cose che magari noi da vicino non vedevamo, le esprimeva in un certo modo e il fatto di essere tornato qui e aver ricominciato a partecipare alle decisioni che il Movimento 5 Stelle Le prende... Però il governo col PD lui non voleva farlo però, Marco... Sì no, una cifra, che percentuale di rischio vede che questo governo alla fine non prenda corpo? No, io non ho la sfera di cristallo, io mi auguro che si riesca veramente a mettere al centro la capacità di risolvere i problemi delle persone, a me tutto il resto veramente non interessa. Ma non si è ancora sicuri al 100%? Ma il 100% non ci può essere, ma ripeto, questo governo nasce e dura fino alla fine della legislatura se risolve i problemi dei cittadini e noi abbiamo fatto delle promesse e vogliamo mantenerle. Grazie, grazie ancora Stefano Patronelli, capo di Gruppo del Senato del Movimento 5 Stelle, grazie Marco Di Fonzo. Grazie Stefano. Noi ci vediamo tra pochissimo alle 16 con altri ospiti e vi aspetto, grazie. Grazie.